Questa mostra ci aiuta a riflettere su come chi ha la responsabilità nella società dovrebbe concentrarsi non sulle idee e sulle paure del passato, ma sull'idea di lavorare tutti per il bene di ciascuno. Così Ignazzo Marino, sindaco di Roma, in occasione dell'inaugurazione della mostra Senza Atomica, trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari. Presso lo spazio Factory della Pelanda, promosso dall'istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'esposizione rientra nella campagna di sensibilizzazione al disarmo nucleare con l'obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni e far capire alla collettività che il disarmo e la cultura della pace partono dall'impegno di ognuno. Nel mondo esistono più di 16.000 bombe nucleari, di cui più di 70 in Italia e l'intento è arrivare alla nascita di un movimento di opinione forte che possa portare alla firma nel 2015 di un trattato interazione che bandisca le armi nucleari. La mostra multimediale è composta da una sezione dedicata agli adulti e una specifica per i bambini. Sono già 16.000 gli studenti pronotati, sottolinea Paolo Masini, assessore alla scuola e al dialogo interreligioso di Roma Capitale. Abbiamo fortemente voluto questa mostra nella nostra città ed è una grande occasione.